Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di come Napoli, come la canzone italiana, abbia ispirato uno dei più grandi compositori della storia della musica. Parliamo infatti di come la canzone napoletana, canzone come avrete visto dal titolo, solo tra virgolette perché non possiamo di fatto parlare di canzone per come la conosciamo noi, abbia ispirato uno dei più grandi compositori del mondo, ovvero Ludwig van Beethoven. Per spiegare un po' i motivi per i quali la canzone napoletana fosse così grande in tutta Europa, dobbiamo prima contestualizzare Napoli alla fine del Settecento, siamo nel 1788, siamo nella fine del Settecento, negli ultimi vent'anni, anni in cui Napoli vive un periodo molto florido dal punto di vista artistico, anche grazie al miraggio di una repubblica partenopea nel 1799, che seppur durata pochi mesi ha sicuramente contribuito allo spirito collettivo per cui Napoli sentiva di avere una propria identità, per la quale era comunque di fatto famosa in tutta Europa. E per arrivare a questa grandezza ottenuta alla fine del Settecento dobbiamo andare ancora più indietro nel tempo, più precisamente nel 1442. È nel 1442 infatti che il regno di Napoli cade e passa dalle mani degli angioini alle mani degli aragonesi. Ed è grazie ad Alfonso d'Aragona, grande appassionato di libri e di poeti, che a Napoli viene favorito lo sviluppo di poesie e viene favorita la formazione di molti artisti, ai quali fu anche intimato di utilizzare come lingua ufficiale per la prima volta il dialetto. È così che quindi il pugliese volgare, che solo in seguito diventerà napoletano, diventa a tutti gli effetti la lingua nazionale. Questo cambiamento fece sì che però non tutti i poeti si adattassero subito a queste nuove normative. Difatti i poeti, riconosciuti come tali, continuarono per un periodo ad usare una lingua ancora piena di latinismi, di spagnolismi, di toscanismi, rendendo per la prima volta distinta l'arte popolare dall'arte popolaresca. Queste due correnti, che sono molto simili e tra cui non sempre è chiaro il confine che le separa, sono due correnti che viaggiarono sempre in maniera parallela e che comunque si influenzarono reciprocamente. Si intende per arte popolare quell'arte non trascritta, non ufficiale, tramandata oralmente e che apparteneva esclusivamente al popolo, la vera arte popolare tramandata di generazione in generazione. Si arriva al concetto di arte popolaresca quando questa viene per la prima volta trascritta. Per cui si può dire in un certo senso che l'arte popolaresca è ciò che fu resa tale dagli artisti che trascrissero l'arte popolare. In questo senso è bizzarro come le stesse composizioni venissero suonate in maniera raffinata, colta, polifonica, con un'armonia molto più complessa a corte e in maniera monofonica e con l'accompagnamento di una sola chitarra nelle osterie. Questo continuò anche negli anni successivi e venne anzi enfatizzato nel momento in cui Federico d'Aragona, successore di Alfonso, nel 1458 convocò a corte dei grandi maestri spagnoli, tra i quali potremmo ricordare Tinktoris, Icart e Garnerius, che attinsero dalla cultura popolare per rielavorarla e, complicandone l'armonia e applicandogli appunto le polifonie di cui abbiamo appena parlato, definirono quella che fu l'arte colta dell'epoca che, grazie all'arte popolare da cui attinse alla maestria dei musicisti di corte che la resero arte colta, si diffuse in tutta Europa, tant'è che le uniche forme di canzone famose in tutta Europa erano la canzone napoletana seguita solo dalla canzone spagnola. Questo anche per tutto il Cinquecento. E' nel Cinquecento infatti che a Napoli arrivò la Villotta, un madrigale proveniente dalle campagne che ebbe un grandissimo successo quando a Napoli venne rinominata Villanella, oppure, come si diffuso in tutta Europa, villanesca alla napoletana. E' sulla Villanella che la canzone napoletana raggiunge l'apice della propria popolarità e, in un certo senso, possiamo dire che la canzone spagnola attinse dalla cultura popolare napoletana in quanto la rielaborò, appunto, attraverso musicisti di corte spagnoli che inevitabilmente importarono l'arte da loro appena trascritta nei loro paesi, ma che la canzone napoletana fu favorita in quanto popolarità, in quanto crescita, dal dominio spagnolo. Ecco che quindi potremmo definire quasi sorelle la canzone spagnola e la canzone napoletana, le quali non avrebbero vissuto probabilmente come hanno fatto l'una senza l'altra. Il declino della Villanella tuttavia incominciò nel 600, dopo aver attraversato l'Europa per un secolo intero, ebbe il suo declino nel 600 quando a Napoli arrivò il melodramma. Nel 600, appunto, è un po' il periodo all'interno del quale arrivò questa nuova forma d'arte, sviluppatasi a Firenze nel 1597 e arrivata a Napoli solo nel 1651. E qui, che quindi dopo aver attraversato tutta la fase per cui gli aragonesi favorirono lo sviluppo della cultura napoletana, che il melodramma trova una popolazione pronta a ricevere una nuova forma d'arte ed elaborarla, dopo aver avuto una storia molto importante da raccontare a tutto il resto d'Europa, attraverso la quale può continuare ad espandersi e a reinventarsi. Con l'arrivo del melodramma, infatti, Napoli conosce una nuova serie di artisti, di poeti, di librettisti, tra i quali figurano Giovanni Paesiello e Giuseppe Palomba, che scrissero nel 1788 alla Molinara. Nel 1788 Ludwig van Beethoven ha 18 anni ed è da qui che arriverà a scrivere le sue sei variazioni sul tema di Nel Corpio non mi sento, che è l'area più famosa all'interno della Molinara. Ecco perché Napoli è arrivata ad ispirare uno dei compositori più grandi della storia, perché la storia in un certo senso si può dire che l'abbia fatta Napoli. Se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un like e un commento e a condividerlo con la vostra cerchia di persone. E noi ci rivediamo di un prossimo video.